bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Elige e oggi siamo su Five Nights with 39 questo è un gioco di SNAI di SNAI di Five Nights at Freddy's una mod ed è una mod più strana che voi possiate mai vedere io ho provato quindi sono a seconda notte però ve lo voglio far vedere quindi new game e come potete ragazzi in questa mod dovremmo solo insomma esce contro di lui il with 39 proprio lui che lo vede dato è l'unico che c'è nello schermo ciao allora premi contro per guardare nelle telecamere si perchè le telecamere sono sfaccate cioè rovinate quindi dobbiamo usare la torcia delle telecamere perchè è l'unica che funziona allora lui è ancora sul palco quindi finchè lì allora non ho potte ok non ho potte quindi io ti voglio eccoci Mos sto spai facendo non sto capendo che stai facendo ma mi sembra che proprio sono dog allora questo gioco abbastanza faccia completare ragazzi e le telecamere che lampeggiano queste qua che vedete sono quelle che non puoi vedere perchè io ci clicco sopra e non ci vanno bene perfetto ogni volta che abbastanza faccia orribile ciao come sai è già luna di notte c'ho la batteria 77 vedete che è facile perchè allora il stoffa in ice passa veloce ma cos'è senti perché credo che da soli non la voglio i sapere posso bere l'acqua aiuto mi sto confondendo che è ah è vicino al mio ufficio deve fare solo questo corrido e sole 2 di notte 65 65 grazie basta che lo ti muovi siamo madonna e vai via e beh scusa mi ha fatto proprio un accidente oddio non lo vedo nelle telecamere scattate spettore per favore che non ce la faccio si c'ho le 3 di notte vabbè caduto va bene è caduto sul parco non c'è nessuno quindi come animatronico c'è solo lui va bene però nei poster c'è freddy e ciccone ciccone ma che cosa vuoi dalla mia vita no c'è no c'è mi chiami studio resto così devo vedere se si muove c'è il quattro e mattino fa sempre perdere un accidente in teoria per mandarlo allora per mandarlo via dall'ufficio perché ti ruba a corrente così la corrente va giù molto più velocemente allora per mandarlo via dal tuo ufficio è ritornato sul parco ma è scemo allora per mandarlo via dal parco cioè per mandarlo via dall'ufficio devi come avete visto prima schiacciare il naso bong poi si è andato eccolo allora io non uso più tanta corrente quindi guardo solo le luci solo quelle ecco e allora dai siamo cosa c'è caduto il nuovo non diceva va bene scattate speciali per favore mai manca non c'è caduto il nuovo non diceva non c'è caduto il nuovo non diceva non c'è caduto il nuovo non diceva aiuto aiuto non c'è caduto il nuovo non c'è caduto il nuovo non diceva am recovery dire mi prendi in giro soprattutto perché crede che questo anche tre che quei che anche questa volta c'è la fa io non c'è a faccia ma io invece c'è ancora quino ha detto iniziamo c'è arrivo ok luna e notte batteria 87 quindi credo proprio che questa volta già fa io ti guardo quando sono nuovi ho mancati dove sei andato acqua è tornato indietro dove ciò presto corridoio no dove ciò presto pezzo poi andare qua poi fai giro andare qua poi andare qua e dei da me questo animatronic è un po buiacco cioè due di notte o mio dio forse stavolta già fa questo è il tentativo buono non sento dal profondo del cuore ma roma ogni volta che c'è lui poi viene tipo una musica vabbè non so come descriverla avresti voi no perché c'è la batteria già il 57 per cento cosa succede anche ma sei stupido ma perché mi dici attiva e telecamere ho detto di notte anche la vedete una svancia 2b allora ti tengo doppio ma io qua non capisco cosa fa vabbè devo guardare attentamente se non si muove acqua perché se no bravo non lo chiedo più scattano sti 5 per favore così c'ho almeno una possibilità una possibilità dai sono emozionato anche se la prima notte secondo me sarà il primo fnaf che riuscirò a completare tutte le notti tutte le sei? le 5 le 5 le 5 ma ti chappi sul ciasso dove sei andato ok qua io santo ragazzi ce la sto facendo mio dio vai piano con le parole che ci sono anche bambini che ci guardano è sicuro ero morto perchè già avevo la batteria 12 si si lo so che si è arrabbiato vedevo anche la telecamera però tranquillo ci rimangono ancora ben 5 notti allora la seconda notte ragazzi la faremo nel prossimo episodio quindi spero che questo video vi sia piaciuto di mi piace iscrivetevi l'avete visto grazie a tutti